buonasera mi scuso per l'orario mi scuso per il disguido di oggi ma c'è stato un problema tecnico poi ci sono sovrapposti impegni su impegni e quindi siamo arrivati tardi siamo arrivati lunghi ci saranno due video domani contrariamente al solito però l'argomento c'era quest'oggi e riguardava principalmente due cose una vabbè è passato già un po di tempo alla vigilia della partita di italia macedonia era stato chiesto a spalletti ma se domani ci sarà un rigore cosa farà giorginio e le spalle ti ha detto prenderà il pallone e tirerà rigore appunto il pallone ha tirato rigore e ragazzi e boh sono segni del destino non lo so però tre rigori consecutivi con la maglia nazionale sbagliati dallo stesso giocatore e cominciano a far pensare qualcosa tra l'altro lui a questo modo di tirarli anche anche van basten faceva i saltelli vi ricordate ma allora faceva all'inizio della rincorsa lui invece lo fa al momento di tirare come fa balotelli del resto è solo che a balotelli è riuscito una serie in fida a giorginio riesce con le squadre club caspita il nazionale insomma tre errori su tre però però spalletti ha detto che ha detto dopo la partita che ha parlato con il ragazzo gli ha chiesto qualora dovesse capitare alcune vacanze di rigore cosa cosa avremmo intenzione di fare gli ha detto beh la sento di tirarlo ancora va bene vediamo cosa succede lunedì perché insomma lunedì è importantissimo e giorginio ha sbagliato due rigori importantissimi che non ci hanno fatto andare ai mondiali quindi attenzione insomma giorginio non so se dire speriamo che ci sia un rigore o speriamo che non ci sia un rigore insomma vabbè da un po' si scherza anche però mi metto anche nei panni del del giocatore e dico caspita può venire anche una una sorta di ossessione no di sindrome da da calcio di rigore no 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 queste reazioni un po' giorginio giorginio no spalle di fa no 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 giorginio no adesso per carità la si sta buttando a sorridere però è un dato di fatto insomma tre rigori sbagliati da un giocatore che normalmente quando li tira con le squadre di club li butta dentro ma l'argomento principale di questo video e che è naturalmente attinente all'argomento generale no sia juventus è la prestazione di federico chiesa che è stata una prestazione sicuramente di altissimo livello di altissima intensità di altissima autostima di altissima sicurezza ed è un buon viatico naturalmente in chiave juve per la partita contro l'inter di sabato e di domenica prossima dopo la partita cosa dice chiesa cosa dice chiesa la domanda diretta se avete sofferto questa rimonta iniziata dalla macedonia e poi comunque diciamo così vanificata dai gol di raspadori e di el sharawi e lui cosa dice che ci sta di prendere dei gol ma l'importante e specie specie quando l'importante è dominare l'avversario giocare avanti andarlo a prendere alto essere propositivi bisogna giocare così in sostanza questo era il messaggio fine se stesso per se stesso o indirizzato a qualcuno vogliamo essere maliziosi no vogliamo essere realisti è chiaro che queste parole non saranno piaciute ma si allegri è evidente che non gli piacciono queste parole che non gli possano piacere queste parole com'è evidente che ci sarà probabilmente un chiarimento poi chiesa è sicuramente uno che dice quello che pensa e a me piacciono le persone schiette io ho sempre osteggiato così quello che dovrebbe essere il politically correct per cui non puoi dire esattamente quello che pensi ma c'è allora è una frase forte perché come dire io mi diverto a giocare in nazionale e non mi diverto a giocare nella juve perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che nella juve lui ma la juve in generale giochi diversamente rispetto alla chiesa alla nazionale voleva colpire allegri secondo me non c'era una una finalità di questo tipo ha semplicemente detto quello che pensava se poi questo va ad urtare allegri la sua suscettibilità o comunque il mondo juve la società juventus che ha sposato questo tipo di progetto con questo tipo di gioco quello saranno problemi loro certamente una frase importante quella che ha detto federico chiesa ma attenzione anch'io mi diverto di più o mi sono divertito di più a vedere la nazionale di quanto non mi sia divertito guardando la juve delle ultime settimane è evidente questo cioè voglio dire a tutti piace vedere una partita ricca di gol votata all'attacco eccetera eccetera poi ho detto non mi piace politica di corretto politica di corretto sì però bisogna anche valutare quelle che possono essere le conseguenze anche se tu non vuoi ottenere un determinato fine perché non è che allegri adesso cambia modo di giocare perché tu hai detto così no ma nemmeno lui pensava di poter ottenere o pensa di poter ottenere questo chiesa sto dicendo però sai anche che dicendo una cosa di questo genere puoi creare una polemica puoi creare un dissapore puoi creare delle situazioni che poi vanno affrontate che poi vanno affrontate in un confronto ok e il confronto molto probabilmente ci sarà molto probabilmente ci sarà no però se vogliamo dirla tutta ragazzi allora il primo gol di chiesa è un'azione offensiva di attacco il secondo gol di chiesa come nasce è da una ripartenza dallo stesso modo di giocare per la juventus ripartenza all'alge profondità lui è bravo la controlla tiro a giro via è un'azione di rimessa e anche le azioni di rimessa sono offensive e fase offensiva anche quella lì è questo per farvi capire che non bisogna essere assolutisti perché se sia assolutisti e col paraocchi poi si rischia di essere smentiti dai fatti il secondo gol di chiesa è un gol che poteva aver segnato tranquillamente nella juve perché ricalcava lo stesso modo di giocare nella juve chiaramente sto parlando di una situazione di una situazione anche l'azione che porta a gol dei raspadori è un'azione comunque di ripartenza cioè non c'è l'azione in mano però è in dubbio è in dubbio che la nazionale giochi diversamente è in dubbio che la nazionale diverta di più di quanto non faccia la juve come modo di giocare il messaggio di chiesa qual è è meglio vincere 5 a 2 che 1 a 0 difendendo il vantaggio 2 a 1 difendendo il vantaggio sono diversi punti di vista ma forse siamo anche tutti d'accordo su questo la domanda che mi faccio io è ha fatto bene a dirlo in un momento così delicato c'è juve inter alle porte ha fatto bene voleva togliersi un sassalino dalla scarpa voleva semplicemente dire quello che pensa se è questo ok se c'era un'altra finalità ma non credo comunque rischia di creare una situazione di dissapori in un momento delicato in un momento delicato tutto qua quello che penso io se la pensate come a me fatelo sapere se non avete come fatevelo sapere lo stesso in ogni caso iscrivetevi al canale vi chiedo ancora scusa per l'ora tarda della messa in rete del video colpa mia e mi ne assumo tutte le responsabilità perdonatemi ancora iscrivetevi al canale ci vediamo domani ciao